Questo rapporto dice una cosa, secondo me, molto devastante per il governo italiano. Con 100.000 persone che sono arrivate in questo paese, 10.000, 10, 15% di queste persone sono escluse dall'accoglienza. Qual è la prima cosa che chiedete con urgenza al governo? Quello che chiediamo è quello di ampliare più velocemente possibile, in modo strutturale, l'accoglienza in Italia, il numero di posti letto per le persone presenti in Italia e quindi dare l'opportunità a persone che vivono nei siti informali di essere accolti in situazioni più dignitose. Chiediamo comunque al governo di occuparsi dell'accoglienza e dell'assistenza diretta di queste persone, non demandando questo lavoro esclusivamente alle organizzazioni non governative. Alla luce di una stagione che si prospetta difficile, senza un piano finora, non sappiamo se esista un piano del governo italiano. Sì, tenendo conto che alcune dinamiche geopolitiche stanno cambiando i flussi, quindi la ruta balcanica che si è arrestata, il livello di disperazione che permane molto alto in moltissimi dei paesi in guerra, quindi la possibilità che le persone scappino attraverso per esempio il Mediterraneo centrale è più che evidente. ci sono già delle situazioni che vedono aumentare la percentuale di persone arrivate in Italia quest'anno nel 2016 rispetto al 2015 e altre situazioni contingenti, quali per esempio la chiusura al Brennero o la possibile chiusura a 20 miglia. in una situazione di confinamento dell'Italia a mega campo profugo, a noi renderebbe tutti molto più tranquilli sapere che il governo in questo momento ha un piano di contingenza per gestire dei flussi che potrebbero essere molto ingenti nella prima vera estate del 2016. nel sistema di accoglienza in Italia, vedete in blu i posti ordinari, cioè il nostro sistema di accoglienza ordinario, sono 30.000 posti, quindi nel 2014-2015 quasi 150.000 richieste di asilo, posti ordinari nel sistema di accoglienza 30.000, quindi per questo motivo siamo stati costretti negli ultimi anni ad aprire strutture straordinarie di accoglienza. L'assenza di una politica governativa italiana ed europea crea un mercato intorno all'emergenza e immigrazione? Noi vediamo essenzialmente due problemi, innanzitutto un problema di capienza, cioè i posti sono insufficienti, sono stati da poco meno di 30.000 posti, quando invece negli ultimi due anni abbiamo avuto quasi 140.000, nel 2014-2015, 140.000 richieste di asilo. Il secondo problema è che il sistema di accoglienza in Italia si fonda quasi interamente su strutture di accoglienza straordinarie, vuol dire strutture di accoglienza messe in piedi in condizioni di emergenza, in questa accoglienza non strutturata di emergenza con enti gestori senza esperienza che poi produce all'uscita dell'accoglienza, produce queste condizioni di marginalità perché semplicemente fuori dall'accoglienza il rifugiato non sa che tipo di percorso intraprendere per rendersi completamente autonomo.